Un'automobilista esce fuori strada per evitare un cinghiale e finisce in un fossato. E' quanto è accaduto ieri sera intorno alle 22 sulla strada provinciale tra Raiano e Prezza. Tre le persone ferite, non gravemente per fortuna, tra gli occupanti dell'auto, trasportate dal 118 all'ospedale di Sulmona. L'incidente riporta l'attenzione sul problema dell'elevato numero di cinghiali sul territorio, pericolo per la circolazione, specie di notte, quando scendono a valle alla ricerca di cibo e acqua. La presenza degli ungolati lungo le strade abruzzesi ha provocato nel corso del 2015 numerosi incidenti stradali, uno finito anche in tragedia con la morte di un imprenditore aquilano. Sull'argomento reintervenuto lo scorso mese di luglio, il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, annunciando il piano di contenimento. Sui danni invece provocati all'agricoltura dai cinghiali, a informare direttamente il prefetto dell'Aquila, era stato il presidente del COSPA, Dino Rossi.